Il nostro agroalimentare è certamente oggi uno degli elementi che ci caratterizza nel mondo per la qualità, per la tradizione, per la cultura, per la bontà, per l'emozione che sa in qualche modo trasferire alla nostra credibilità nel mondo. E oggi in occasione proprio di questo grandissimo appuntamento dell'Expo abbiamo messo a punto un primo grande, io credo unico, straordinario elemento per avvicinare tutte le imprese che si occupano di agroalimentare e di qualità e sono circa 700.000 quelle che abbiamo individuato nel nostro paese per poterli mettere insieme in un grande portale, tutti insieme, uno per tutti, tutti per uno, per potersi presentare al mondo nel modo migliore, per potersi presentare per le cose positive che in questa direzione si producono e per poter quindi veicolare tramite poi questo grande appuntamento dell'Expo nuove, importanti opportunità. Io mi auguro per incrementare non solo l'export italiano ma per incrementare ulteriormente la nostra credibilità. Quindi un'operazione unica che è partita grazie al prezioso lavoro di collaborazione insieme a Simboli, insieme al Ministero, insieme alla RAI che ci fornisce anche tutti gli elementi visivi, tutti i clip dei vari, saranno circa 25 nei vari settori dell'agroalimentare. E' in questo grandissimo portale, Italian Quality Excellence, e da qui partire per poter, io mi auguro, ridare quel fiato, quell'entusiasmo e quelle opportunità di cui abbiamo bisogno in questo momento, certamente non facile.